Perché la Chiesa non si interessa solo del singolo? In passato è stato rimproverato alla Chiesa di essere interessata solo alla salvezza dell'anima, del singolo individuo. In effetti, di fronte a Dio, con da ogni singola persona. Siamo tutti unici e irripetibili. Nonostante questo, sin dal grembo materno, dipendiamo dalla comunione con gli altri. Solo, avendo una buona relazione con gli altri, possiamo essere felici. Già nel racconto della creazione, si dice Il Signore Dio disse Non è bene che l'uomo sia solo. Voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Dio è interessato al bene integrale dell'uomo e quindi allo sviluppo della comunità alla quale gli esseri umani partecipano in modi differenti.